Oggi il MEF si è impegnato a presentare entro sei mesi una proposta di ulteriore semplificazione per l'accesso al mercato dei capitali. Quanto è importante questo atto? È importantissimo. Abbiamo un documento che è certamente all'avanguardia, l'ho ricordato anche il sottosegretario Freni, sotto molti aspetti è più innovativo del Listing Act e di altre iniziative europee, un documento equilibrato che può facilitare la competitività del sistema e siamo molto contenti che il Ministero dell'Economia lo prenda seriamente e voglia lavorarci. Già lo scorso anno sono stati degli atti da parte di Consob, di Borsa, ci sono discussioni in Europa. C'è quindi una maggiore consapevolezza dei problemi e delle opportunità del mercato dei capitali? Assolutamente sì. Devo dire a memoria mia negli ultimi 25 anni raramente c'è stata una simile convergenza a livello istituzionale di operatori, di studiosi, di politici sulla necessità di sbloccare un po' il sistema. Peraltro in un momento in cui, come si è più volte detto stamattina, far arrivare risorse finanziarie alle piccole e medie imprese che devono crescere è veramente fondamentale. Quindi gli auspici ci sono tutti. Certo, anche in altri momenti in passato si sono fatti alcuni ragionamenti analoghi che poi non sempre hanno dato frutti. Qui pare che la convergenza, la determinazione, l'ampiezza dei temi sia maggiore che in passato e questo riguarda non solo e non tanto le regole, lo dico da giurista, le regole sono importantissime ma anche, fatemi dire, gli atteggiamenti, le prassi, le prassi di vigilanza e tutto questo, chiaramente col rigore necessario quando serve, ma può facilitare un maggiore sviluppo dei nostri mercati. Oltre alle regole ci sono anche i mercati, l'operatività. L'anno scorso è stato un callo dei controvalori, degli scambi. Quest'anno si è aperto in modo un po' più ottimista. Qual è la salute dei mercati italiani? L'anno scorso è stato un anno difficilissimo. Qualcuno mi diceva, non so con quali basi statistiche, che dal 1700, dalla fine del 1700, che non c'è una simile correlazione tra obbligazionario e azionario. Quindi un anno certamente molto difficile, come può capitare. Lo stato di salute dei mercati italiani non è cattivo dal punto di vista della professionalità degli operatori, della tutela dell'investitore e così via. D'altronde i fenomeni dello scorso anno sono fenomeni esogeni, eccezionali e che speriamo vengano contenuti. Qualche ragione di cauto ottimismo c'è, soprattutto se le regole e le prassi ci aiutano. Grazie.